buongiorno a tutti ciao vetta del pazzo delle rose vicino al mio ben nevis che è qui dietro oggi sono in compagnia con mio figlio Leonardo io sono Massimo Giugno Hotel 3 vediamo adesso vado a fare una piccola hotel 422 per chiamata generale cambio eccoci perfetto abbiamo già bene fatto hotel 422 buon pomeriggio hotel 23 in vetta per un contatto radio abbiamo un po di vetto in provenienza da sud sud ovest visibilità nella zona del Monte Giovo pressoché perfetta ci sono dei forti accumuli sulla parte del cimone cambio per te hotel 422 hotel 23 mi trovo sulla via Vandelli in località Ferlari adesso diciamo c'è qualche nuvola ma ma giornata ideale molto bene ricevuto per il tutto ti ringrazio ti auguro un buon pomeriggio grazie a presto fine da parte mia un saluto da parte mia hotel 422 fine da parte mia bene questa è la semplice comunicazione che fa sì che una persona che è qua a pazzo delle rose riesca a comunicare con tutto quello che si vede qui intorno cimone compreso a parte toscana con una semplice la dolina voglio ringraziare il mio carissimo amico franco e compagnia del negozio magic shop per l'ottimo acquisto che sono andato a fare e per gli altri due che ci ha fornito ringrazio a voi per la visione di questo video sempre avanti in montagna e sempre avanti in vetro da Deo Montano ciao a tutti da hotel 23 ciao